Vi do giusto un benvenuto e prima di presentare ovviamente i nostri esperti. In che evento ci troviamo? Ci troviamo in un momento di approfondimento da unire all'attività che tutti i giorni di fatto facciamo come Movimento 5 Stelle in città. In particolare oggi abbiamo qui il gruppo lavoro e quindi dei cittadini attivisti normalissimi come chiunque di noi che si sono messi in gioco con le proprie professionalità e ci spiegheranno affrontando questo tema del lavoro. È uno dei primi eventi da parte del Movimento 5 Stelle specifico e tecnico su questo argomento quindi credo sia anche un ottimo momento per iniziare ad approfondire queste tematiche. Io prima di dare la parola faccio un attimo di contesto, siamo in piene graticole, stiamo scendendo i candidati per le regionali attraverso questa procedura, questo esperimento che stiamo facendo. In mezzo a tutto questo ovviamente non può fermarsi il lavoro di approfondimento come non può fermarsi il lavoro che facciamo di fiato sul collo nei comuni tutto l'anno. E' per questo che ci troviamo qui stasera, ora passo la parola ad Andrea che spiegherà la serata. Io sarò un po' qui e un po' alla videocamera dato che ognuno ha il suo ruolo come attivista e quello di prendere le riprese mi tocca quindi grazie. Grazie Mattia. Buonasera a tutti, benvenuti a questo evento del Movimento 5 Stelle. Mi presento innanzitutto, io sono Andrea Foti, sono un attivista appunto del Movimento e tra le varie cose mi occupo del GDL Lavoro. Non sono un esperto nella materia ma ritengo che la problematica del lavoro sia fondante per tutti noi, per la nostra Repubblica come dice appunto l'articolo 1 della nostra Costituzione. Allora, all'interno del GDL Lavoro è nata questa iniziativa che come ha detto Mattia prima è un'iniziativa di tipo informativo. Con un pool di esperti, avvocati giuslavoristi che poi vi presenterò, abbiamo deciso di informare i cittadini in merito proprio alla riforma che è stata appena approvata, cosa cambia, perché insomma come tutti sappiamo c'è stata un po' un'informazione ondivaga su questa riforma. Quindi io niente, sono qua semplicemente in veste di moderatore, la serata sarà articolata in due momenti diversi. La prima parte loro spiegheranno la riforma con delle slide, con un linguaggio io spero il meno tecnico possibile, il più divulgativo possibile, mentre la seconda parte come nello stile del movimento ci sarà un momento di confronto con voi, quindi se avete domande o anche vorrete dire la vostra su questo argomento insomma ci sarà tempo per farlo con degli interventi, delle domande e loro risponderanno eventualmente. Allora, adesso ve li presento. Fanno tutti parte del GDL lavoro e quindi l'informazione che vi daremo stasera, spero che sarà esaustiva, comunque certamente qualificata, è nata proprio tutta all'interno, con le professionalità all'interno del Movimento 5 Stelle. Allora, Mattia, insomma, l'avete visto, il nostro consigliere Mattia Calise, dopodiché abbiamo il responsabile dell'osservatorio del lavoro di Milano, anche lui ovviamente attivista del Movimento 5 Stelle, Livio Loverso, è lui, potete anche applaudire, scherzo, ok, poi abbiamo i tre avvocati giuslavoristi, quindi non lo ripeto per ognuno di loro, abbiamo Giovanni Masala, abbiamo Manuela Casarilla e Stefano Mignati, alla mia destra. Buonasera. Intervento, come vedete, da scaletta. Grazie a tutti. Ok, ho scoperto come funziona, grazie. Io faccio un po' da jolly. Questa sera il mio ruolo è semplicemente di mettere in contesto quello che loro, gli esperti veri della materia del lavoro, vanno ad illustrarvi. Ve lo dico perché sarà appunto un contributo del tutto diverso dall'aspetto tecnico-giuridico. Io cercherò di farvi mettere nel quadro ogni singola forma contrattuale di cui loro vi parleranno. Lo faccio utilizzando del materiale che è prodotto dall'osservatorio della Regione Lombardia, visto che siamo in un'attività che è propedeutica alla costruzione del programma elettorale che porteremo poi in Regione Lombardia. Questo, non vi è stato detto, è il primo tentativo. Seguiranno tanti altri in tutta la Regione, nei vari capoluoghi, di incontri tematici. Perché la cosa principale dal nostro punto di vista è che tutti devono partecipare e per partecipare uno lo deve fare in maniera consapevole, avendo un minimo di informazione alla base. Poi puoi scegliere, partecipo a questo o a quell'argomento, approfondisco le mie conoscenze e quindi do il contributo a questo o a quell'argomento. Ma noi abbiamo, tra virgolette, da cittadini l'obbligo e l'onere, in qualche modo, di darvi degli strumenti. Almeno ci proviamo. Loro sicuramente sì, perché sono veri esperti. Allora, di che cosa parliamo? Di che cosa parliamo? Ve lo avevo già detto. Utilizziamo dei dati amministrativi. Il dato amministrativo ha una peculiarità. Non è il dato che l'Istat vi presenta, che è quello solitamente che voi trovate nei giornali. Ovvero sia qualcosa su un campione. Il dato amministrativo è qualcosa di universalistico. La differenza base sta nel fatto che ogni qualvolta un datore di lavoro avvia, cioè assume qualcuno, licenzia qualcuno o trasforma un rapporto di lavoro in essere, lo deve comunicare all'ente pubblico. La regione, l'osservatorio regionale, ci dà i dati di questi flussi di comunicazione. Quindi non parlerò mai di quantità. Non vi posso dire in un certo momento stanno lavorando 32 persone con questo contratto, con quel contratto. vi potrò dire, però in un arco di tempo, come stanno andando le cose rispetto a quella forma contrattuale. Ovviamente se qualcuno ha un qualunque dubbio, ditemelo subito perché magari anche per loro sarà più facile nel proseguo. Il dato amministrativo, questo qui è l'informazione di quanto pesa ciascun contratto tra i nuovi contratti. Questo qui è il trimestre che va da luglio, agosto e settembre, il terzo trimestre. C'è scritto settembre nella slide, ma in realtà sono gli ultimi tre mesi. Come si sono divise le forme contrattuali? Facilissimo da vedere. Allora, il tempo determinato, la falla da padrone. Il 45% delle comunicazioni che sono arrivate, ovvero dei nuovi contratti di lavoro in regione Lombardia, hanno avuto quella forma contrattuale. L'apprendistato, di cui molto parleremo, anzi parlerà, Manuela, ha il 2,7%. Cioè i nuovi contratti stipulati in apprendistato sono il 2,7%. Il tempo indeterminato è invece il contratto che chi ha scritto la norma, poi ovviamente loro mi correggeranno subito, aveva in mente come punto nodale, centrale, quello che è la norma delle norme dei contratti. Non arriva al 20%. Sempre in quei tre mesi considerati, tre contratti stipulati, in Lombardia i tempi indeterminati sono meno del 20%. Lo vedete, 18,4%. A questo punto, se chi segue le slide mi fa... Toc, grazie. Sul tempo indeterminato, adesso questa qui ve la spiego un attimino, perché tanto poi lo rincontrerete e sarà anche più facile per me, vi fa vedere due cose. Mese per mese, quanti sono stati gli avviamenti appunto in quella forma contrattuale su tutta la Lombardia nel trimestre, e compara l'anno 2011 con l'anno 2012. Ovvero sia, il colore rosso è l'anno scorso, il colore, quello lì che è più o meno verde, 12, è l'anno in corso. Questi non sono dati ovviamente nuovi, sono già stati pubblicati, solo che la loro diffusione finisce sul sito della regione, non va oltre probabilmente. Devo solo fare un commento a questa slide. Voi vedete l'andamento, ovviamente crollano in agosto, ma è normale, crollano in tutti e due gli anni. Le imprese, non mi chiedete perché, io dieci anni che faccio questo mestiere, cioè osservo il mercato del lavoro e leggo questi dati, a settembre è sempre il momento di picco, cioè le imprese iniziano e è come se ricominciassero un nuovo ciclo con tanti avviamenti. Bene, guardate settembre, settembre dell'anno scorso, il picco elevatissimo del tempo indeterminato, le imprese avevano un po' di fiducia, stavano rilanciandosi, usavano questa forma. Quest'anno non è così. Qualcuno ha un dubbio sulla lettura della slide? Perché dopo ve le farò vedere tutte così, eh? Ottimo. Buonissimo. Andiamo sul somministrato. L'avete fatto, vero? Il somministrato ha un trend totalmente diverso. L'ho selezionato non perché loro ne parleranno, infatti la riforma non lo tocca, ma per farvi capire subito come funziona questa immagine grafica. Attenzione, qui le cose sono andate diversamente. L'anno scorso c'è stata calma piatta in settembre. Quest'anno, in settembre, le imprese hanno fatto ricorso maggiormente a questa forma contrattuale, che è il vecchio interinale. Ve lo sto dicendo? No, non è compito mio spiegare, sarete voi a farlo, perché siete voi i giuslavoristi. Se loro hanno una domanda e non lo capiscono, fanno meglio dirvelo e gli esperti rispondono. È interessante, ve lo dico, perché la somministrazione sono quei lavori che non sono, quei sono lavoratori che non sono assunti direttamente dall'impresa, ma le imprese si rivolgono alle agenzie che voi conoscete. È solitamente un contratto che noi, tra virgolette, che ci occupiamo delle cose, di questi argomenti, utilizziamo come indicatore. perché se cresce o cala la somministrazione, che è uno dei contratti che va prima, è più volatile, significa che sta cambiando qualcosa nel mercato del lavoro. La punta di quest'anno mi sta dicendo che stanno ricorrendo, a settembre almeno l'hanno fatto, maggiormente le imprese alla somministrazione rispetto a l'anno scorso e infatti c'era un calo del tempo indeterminato. Prossima slide, che così finalmente posso dare la parola alla esimia collega al mio fianco, lei parlerà dell'apprendistato. L'apprendistato ha un trend esattamente analogo al tempo indeterminato, ma più grave. Ma perché è più grave? Ovvero sia, la differenza tra gli avviamenti di settembre dell'anno scorso e quelle di quest'anno è maggiore ancora di quella che è stato nel tempo indeterminato. Perché? Perché qualcuno ci ha messo mano. Manuela, come ci ha messo mano? Adesso ve lo spiego. Buonasera a tutti. Facciamo la slide? Allora, vorrei velocemente ricordare che cosa è l'apprendistato. Non vorrei tediarvi, sono ben altre cose da focalizzare. L'apprendistato, che sono circa 15 anni che il nostro legislatore cerca in qualche modo di rilanciare e secondo le intenzioni della riforma Fornero dovrebbe essere il canale privilegiato di accesso dei giovani nel mondo del lavoro, per i non addetti ai lavori viene considerato un contratto speciale, diciamo così, con causa mista. Cioè, accanto a quello che è il normale scambio tra lavoro e retribuzione, vi è anche l'obbligo del datore di impartire all'apprendista gli insegnamenti necessari, ovvero di permettere al giovane lavoratore di seguire dei particolari percorsi formativi per ottenere una qualifica professionale, una qualificazione tecnico-professionale o addirittura un titolo di studio anche di livello secondario, universitario o specializzato. In teoria, il giovane lavoratore dovrebbe trovarsi benissimo con l'apprendistato perché accanto alla possibilità di lavorare e di poter percepire un salario ha anche la possibilità di completare la sua formazione e i suoi studi. Vediamo le tipologie di apprendistato velocemente. Le prime tre, l'apprendistato per il diritto a doveri di istruzione, l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di alta formazione e ricerca. Ecco, vado a grandi linee poi se ci sono delle necessità di puntualizzare e lo vediamo successivamente sono riservate ai giovani lavoratori dai 15 ai 29 anni circa. Poi dal 2011 nel testo unico per l'apprendistato è stato introdotto questo apprendistato di carattere trasversale per particolari situazioni di mobilità o per disoccupazione che riguarda anche lavoratori oltre i 29 anni con la possibilità di iniziare un periodo di formazione per una nuova riqualificazione professionale. Ecco, ricordiamo i vantaggi per il datore di lavoro i vantaggi che dovrebbero incentivare appunto i datori di lavoro ad assumere tanti giovani tanti apprendisti sono sostanzialmente quattro prima di tutto la possibilità questo è importantissimo di sottoinquadrare il lavoratore apprendista cioè l'apprendista può essere inquadrato fino a due livelli sotto rispetto al contratto collettivo nazionale stiamo parlando della possibilità di pagare circa il 20% in meno rispetto alla retribuzione minima garantita dai contratti collettivi a questo si aggiunga la liquida contributiva ridotta al 10% addirittura in alcuni casi poi la legge specifica meglio per imprese fino a 9 dipendenti possiamo arrivare anche a una liquida contributiva pari a 0 cioè abbiamo uno sgravio fiscale ben importante per il datore di lavoro sono cattivissimo ma spiega che cos'è qual è la conseguenza di ciò la conseguenza di ciò è che il datore di lavoro invece che dover pagare cioè quando il datore di lavoro naturalmente lo sapete meglio di me contribuisce e paga il lavoratore il netto che va in tasca al lavoratore è una certa somma quello che però sborsa il datore di lavoro è quasi queste volte fino al doppio perché all'interno vi sono le tasse che il datore paga come sostituto di imposta al posto del lavoratore e poi è la contribuzione in questo modo il datore di lavoro sa quanto pagherà al lavoratore e si ferma lì perché poi sarà poi l'apprendista entro certi limiti poi stiamo parlando di imprese fino a nuove dipendenti imprese artigiane sarà l'apprendista a doversi a dover poi pagare la propria tassazione eccetera accanto a questi vantaggi di tipo fiscale e contributivo e abbiamo altri due di particolare importanza terminato il periodo di formazione il datore di lavoro ha la possibilità di continuare il rapporto mettendo in questo caso assumendo con un contratto di tipo subordinato il lavoratore mantenendo per l'anno successivo gli stessi sgravi fiscali previsti per il contratto di apprendistato oppure può recedere finito l'apprendistato dal rapporto senza necessità di adurre motivazione basta seguire appunto il rispetto dei termini di preavviso in questo modo il datore di lavoro ha una grande libertà di utilizzo di questo povero apprendista che spera di poter essersi guadagnato un posto di lavoro subordinato ma può essere tranquillamente non riconfermato alla fine dell'apprendistato ma non è che scusami sono sempre molto violento nelle mie cose ma non è che diceva la Fornero che era un contratto a tempo indeterminato com'è che c'è questa conferma ma no è chiaro che l'apprendistato ha un termine è indicato appunto al termine nel momento del periodo di formazione di certo non possiamo considerarlo un contratto a tempo indeterminato contrariamente a quello che è stato detto assolutamente anzi lo vedremo poi anche per altri aspetti della riforma infine un vantaggio non da poco poi lo vedremo quando si parla di licenziamenti l'apprendista è escluso dal computo dell'organico richiesto per l'applicazione di alcune norme vi faccio degli esempi per l'articolo 18 per la tutela reale noi sappiamo che esso vale per le imprese che hanno più di 15 dipendenti un'impresa che ha 15 dipendenti e 15 apprendisti per cui ha un organico importante 30 persone non vedrà applicato l'articolo 18 di tutela reale voglio dire in questo modo gli apprendisti sono diciamo così fanno parte di un organico fantasma per l'applicazione di determinate norme quali sono le novità della riforma Fornero sull'apprendistato allora qui sono semplicemente i titoli adesso li spiego velocemente l'ultimo il beneficio dell'aspi anche agli apprendisti poi ne parlerà il collega Giovanni comunque sembra che ci sia la possibilità anche per gli apprendisti di poter avere questa assicurazione poi ci spiegherà in che termini che è possiamo dire l'alternativa a quella che era la vecchia identità di disoccupazione allora prima di tutto un aspetto che dovrebbe incentivare l'assunzione di apprendisti a decorre del primo gennaio 2013 il vecchio limite che prevedeva un rapporto di uno a uno rispetto tra professionista e apprendista adesso è mantenuto solo per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti per le aziende che occupano più di dieci dipendenti il rapporto professionisti e apprendisti sale di due a tre vale a dire che il datore di lavoro ogni due lavoratori subordinati può superare tre apprendisti immaginate rispetto al discorso che facevo prima un organico fantasma che va ad ampliarsi poi invece un aspetto di riforma che sarà secondo me di difficile applicazione in questo caso cerca di disincentivare gli abusi che si fanno nei confronti dell'apprendistato perché è chiaro che un attore di lavoro che continuasse ad assumere apprendisti e a coordinare l'interattività imprenditoriale solo sulla base di apprendisti che poi non verranno mai confermati sta diciamo così abusando della norma per evitare questo è stata introdotta questa sorta di percentuale di conferma che non vale per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti ma che vale per le aziende che occupano più di 9 dipendenti cosa significa l'assunzione di nuovi apprendisti a partire dal 1 gennaio 2013 è subordinata al fatto che nei 36 mesi precedenti cioè nei 3 anni precedenti a questa nuova assunzione che si intende fare si siano confermati e dunque diciamo così si siano assunti con regolari contratti subordinati a tempo indeterminato almeno il 30% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro e questa percentuale dal 1 gennaio 2016 salirà al 50% da questo computo devono essere esclusi naturalmente i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova quelli per dimensione o per licenziamento per giusta causa attenzione perché cosa succede nel caso di violazione della norma quando non è rispettata la predetta percentuale è consentito l'assunzione di un solo ulteriore apprendista mi fermo qui perché poi la questione diventa un po' più difficile eventualmente poi la vedremo insieme cosa succede agli apprendisti che vengono che vengono assunti quali apprendisti in violazione della norma oltre il primo in deroga diciamo così vengono considerati subordinati a tempo indeterminato fin dall'inizio della loro assunzione in questo modo si possono bloccare veramente delle sperequazioni se voi pensate bene perché il primo lavoratore apprendista assunto in violazione della norma rimarrà apprendista perché la norma concede una deroga tutti gli altri invece in violazione dell'articolo 3 secondo me della costituzione verranno invece potranno chiedere al giudice il riconoscimento di un lavoro di tipo subordinato tempo indeterminato con tutti i crisi per cui secondo me qui si apriranno problematiche non indifferenti poi la riforma Fornero ha anche introdotto una durata minima del contratto inizialmente era stata la famosa legge Biagi il decreto legislativo 276 del 2003 l'articolo 49 a indicare una durata minima di due anni e secondo me se non erro Livio è coincisa col periodo in cui l'apprendistato ha fatto un calo brustissimo non so al 2003 perché il discorso è questo il legislatore cosa voleva evitare che l'apprendistato fosse utilizzato per tempi talmente brevi da non permettere al giovane lavoratore di avere una vera e propria formazione per cui l'introduzione di questo articolo 49 della legge Biagi prevedeva una durata minima dell'apprendistato di due anni però è chiaro che il datore di lavoro si sentiva un po' disincentivato perché aveva di fronte a sé un periodo molto lungo di durata del contratto ecco che poi nel 2011 con il testo unico era stato poi eliminato questa sorta di questa indicazione la riforma Fornero ritorna la durata minima del contratto la disciplina fa riferimento agli accordi interconfederali o al contratto collettivo nazionale che devono prevedere una durata minima non inferiore a sei mesi voi pensate che formazione possono ricevere questi lavoratori in sei mesi? no comment scusi facciamo una cosa velocissima sul preavviso in caso di recesso poi dopo eventualmente se volete approfondiamo meglio un'altra questione della riforma sapete che il datore di lavoro può recedere dal contratto solo dopo la sua scadenza solo al momento della sua scadenza non prima se non per giusta causa o giustificato motivo però deve dare un preavviso ora si erano aperte numerose problematiche dal punto di vista giuridico per cui all'interno di quello che è il diritto vissuto nel tribunale del lavoro durante i procedimenti e c'è il caso in cui il preavviso fosse dato dalla scadenza fino al momento successivo alla scadenza del contratto in questo caso la disciplina fornero spiega non vi preoccupate cari datori di lavoro durante il termine di preavviso successivo al termine del contratto continuerà a trovare applicazioni la disciplina del contratto di apprendistato per cui penso che non ci sia più il problema di vedersi riconosciuto un contratto di lavoro a tempo subordinato successivo al termine dell'apprendistato se sta decorrendo il preavviso finiamo ma soltanto per quel pezzettino che poteva essere il momento in cui il lavoratore rivendicasse un rapporto di lavoro facciamo un'ultima indicazione sulla sanzione del datore di lavoro su questo appunto la riforma fornero non ha inciso assolutamente ma volevo ricordarvi che nel caso in cui il datore di lavoro diciamo così violasse la normativa sull'apprendistato le sanzioni sono la trasformazione sin dalla data di assunzione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma addirittura la condanna del datore di lavoro al pagamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta al lavoratore maggiorata del 100% a favore dello Stato mi fermerei eh sì è la sanzione la sanzione maggiorata è una sanzione amministrativa mi reinfilo come jolly alcune piccole considerazioni prima del prossimo contratto che è quello intermittente sempre presentato da Manuela vi ricordo che nella nostra regione è fatto salvo forse il 10 15% delle imprese sono tutte sotto i 9 addetti sono microbi il nostro sistema produttivo quando lei vi parlava delle imprese grandi strutturati che fanno la formazione no è non è lo specchio della nostra realtà e dobbiamo anche ricordarcelo perché è importante pensare alla dimensione delle imprese perché perché le imprese grandi possono fare la formazione all'interno dell'azienda stessa hanno le strutture e erogano direttamente gli altri si devono rivolgere ai servizi pubblici per farlo il che significa corollario grandissimo investimento economico da parte della collettività su sembra anche giusto sui giovani sull'apprendistato peccato che ci sono appunto tutti quei cavilli che magari rendono anche il giovane apprendista per sempre perché uno potrebbe anche fare due o tre contratti di apprendistato uno dietro l'altro la norma non lo vieta passi d'azienda oppure nella stessa azienda passando di qualifica prima ti qualifico per pulire un vetro poi dopo ti abiliterò a fare l'apprendista per pulire una bella vetrata e va sempre bene questo è fondamentale da ricordare il prossimo contratto vi dicevo che è quello intermittente scusate perché in piedi qua ci sono dei posti se volete venire anzi magari sposto un po' di sedi un po' di venite venite ci sono dei posti scusate sì sì ce l'ho io lavoro intermittente devo solo aspettare che lei ve lo spieghi che cos'è oh mamma vi faccio solo notare i trend che sono stati particolarmente strani perché è l'unico momento in cui ho il 2011 e il 2012 che si intrecciano nelle curve che vi avevo illustrato precedentemente ma questo ha un suo perché nel momento in cui vi verrà spiegato io interverrò e vi dirò il perché è stato così prego grazie allora con la legge Biagi si introduce nel nostro ordinamento il lavoro intermittente io nel titolo ecco avevo messo anche il lavoro accessorio perché li considero molto simili dal punto di vista come possiamo dire fisiologico fisiologico montologico ecco nel senso che quando sono stati introdotti nel nostro ordinamento avevano fatto scalpore sono vedrete poi contratti di lavoro che esulano da quella che è la tutela del lavoratore così come la conoscevamo da parte dello statuto dei lavoratori il lavoro intermittente in particolare chiamato anche job on call lavoro a chiamata proprio di matrice anglosassone prevede che il dipendente non effettua la prestazione di lavoro con continuità ma si pone a disposizione del datore di lavoro che lo utilizza quando ne ha effettivamente bisogno nel rispetto naturalmente di un minimo di preavviso la legge prevedeva appunto che si può prevede tuttora che il lavoro intermittente si possa utilizzare solo per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale poi in realtà in teoria il lavoro intermittente può essere può avere ad oggetto qualsiasi tipo di attività esiste anche la possibilità però mi confermava il collega Giovanni che ha molto più esperienza di meglio non aveva mai visto un contratto di questo tipo c'è la possibilità anche che il lavoratore si obblighi a dare sempre una risposta positiva in questo caso il datore di lavoro dovrà pagare quella che si chiama indignità di disponibilità per tutto il periodo non lavorato naturalmente in questo caso il lavoratore immaginatevi un lavoratore privo di quelle tutele che noi conosciamo essere quelle del lavoratore subordinato non solo deve dare un obbligo di informazione in caso di impedimento ma se si rifiuta ingiustificatamente di rispondere alla chiamata dovrà subire la risoluzione del contratto la risoluzione della quota di indignità di disponibilità maturata successivamente all'ultima attività prestata e l'esercimento del danno qual è la novità della riforma sul lavoro intermittente teoricamente la riforma fornero dovrebbe disincentivare il lavoro intermittente avrebbe potuto anche abrogarlo per quanto ne sappiamo però ha preferito appunto tenerli in piedi e in questo caso ha ristretto di poco diciamo così l'età del lavoratore perché precedentemente potevano essere lavoratori intermittenti soggetti con più di 45 anni d'età e meno di 25 anni oggi si fa riferimento a più di 55 anni d'età e meno di 24 anni ma la prestazione deve essere resa entro i 25 anni d'età vi è questo nuovo obbligo di informazione dell'attore di lavoro nei confronti della direzione territoriale competente prima poco prima dell'inizio del lavoro che dovrebbe riguardare anche la durata della prestazione con sms fax posta elettronica e pec per cui teoricamente dovrebbero facilitare queste queste comunicazioni no quella non è una cob scusami perché va alla direzione provinciale del lavoro non entra nel sistema informativo lavoro che è un'altra cosa e comunque il pubblico si sta sopendo io voglio sapere da questo pubblico chi secondo voi come datore di lavoro impiegherebbe o penserebbe di usare un contratto del genere perfetto abbiamo già un vincitore sono ristoranti e alberghi perché perché è facilissimo io ho lui a disposizione faccio una comunicazione al centro impiego poi lo chiamo quando voglio signori ed è la spiegazione dei trend anomali che vi facevo vedere prima prima c'era un avviamento di un giorno era tipico proprio del ristorazione alberghiero poi hanno capito che con questa forma contrattuale tutti i loro problemi sono risolti magicamente perché perché lui è a mia disposizione quando io ho la camera occupata lo chiamo a pulire la camera altrimenti mi dispiace ma se è a mia disposizione ci vediamo settimana prossima lo stesso è a tempo indeterminato questo contratto tant'è vero che ma lì il nostro Giovanni Masala è molto più dotto di me ha avuto una vita molto travagliata perché è stato introdotto è stato tolto è stato reintrodotto poi non si sa dove è rientrato è riuscito glielo vuoi brevemente? questo lavoro a chiamata era stato introdotto nel decreto legislativo 276 che tutti voi conoscete come la legge Biagi ma non è la legge Biagi perché Marco Biagi era purtroppo stato già ucciso da due anni quando hanno fatto questa legge ma si continua a dire in Italia legge Biagi legge Biagi che non lo è ma pensate che in Italia succede questa cosa cioè è arrivato il governo A e ha introdotto il lavoro a chiamata è arrivato il governo B nel 2008 l'ha tolto cioè nel 2006 l'ha tolto e nel 2008 quelli che hanno governato e stavano governando fino a poco tempo fa lo hanno reintrodotto quindi anche dal punto di vista come dire della certezza delle cose che uno deve andare a fare siamo un paese voglio dire lo lascio valutare a voi ecco vai Manuela Passiamo al lavoro accessorio perché è così allora io chiederei di fare partire l'altra slide la seconda ecco precedentemente la riforma ecco attenzione al lavoro accessorio cerco di sbrigarmi perché siamo un po' fuori tempo allora per le prestazioni del lavoro accessorio si intendevano quelle di natura meramente occasionale nella precedente prima della riforma c'erano dei paletti cioè dei limiti sia soggettivi che oggettivi al lavoro accessorio erano espressamente indicate le attività che potevano essere oggetto di contratti di lavoro accessorio io qui ne ho messe alcune piccoli lavori domestici le ripetizioni piccoli lavori di giardinaggio erano indicati espressamente i soggetti che potevano essere appunto impiegati in questo lavoro cioè disoccupati da oltre un anno casalinghe studenti pensionati disabili ed extra comunitari residenti stabilmente in Italia disoccupati da più di sei mesi oltre al cenno che non dovesse durare più di 30 giorni nell'anno e non dovesse portare ad una diciamo così ad un compenso di più di 3.000 euro all'anno ecco ti chiedo se puoi tornare indietro per favore ecco ecco la nuova definizione del lavoro accessorio da parte della riforma fornero per prestazioni di lavoro accessorio si intendono quelle di natura meramente occasionale che non danno luogo con riferimento alla totalità dei committenti a compensi superiori a 5.000 euro nell'anno solare annualmente rivalutati è completamente scomparsa qualsiasi indicazione circa i limiti di attività i limiti soggettivi sono rimasti dei limiti soggettivi solo per i lavori agricoli per cui teoricamente in questo caso abbiamo un lavoro accessorio che può essere può avere ad oggetto qualsiasi tipo di attività in questo caso stiamo veramente parlando di una non so un'incentivazione a qualcosa che il nostro ordinamento ha sempre comunque avuto dei limiti fermo restando qui dice il limite massimo nel corso dell'anno per committenti imprenditori commerciali e professionisti cioè per chi lavora per imprenditori e professionisti il limite per ciascun committente di 2000 euro allora scusate ma mi sembra il caso di intervenire con cattiveria un'altra volta e ricordare come funziona questa brillante cosa com'è che venite pagati se voi siete dei lavoratori accessori con un buono tipo quello che vi danno per la mensa avete un contratto scritto no in pratica qualcuno vi chiama mi fate questo lavoro io ti darò x poi se sono gentile vi stacco il ticket altrimenti chi si è visto si è visto prego no è una bella cosa questa nessuno sa nulla i dati sono segreti l'unica informazione che è disponibile ma bisogna riuscirla a trovare io non lo trovo facilmente e sono dal mestiere credimi è il volume del venduto ovvero sia quanti voucher sono stati piazzati ma quanti sono i lavoratori che cosa fanno ovviamente nessuno lo può sapere e questo vale anche perciò di cui stiamo per parlare le partite IVA ben più numerose ovviamente spero bene del lavoro accessorio ma assolutamente misteriose perché nessuno sa quanti sono nessuno sa per chi lavorano tranne forse l'agenzia delle entrate che sa quanto versano e nient'altro aspetta prima faglielo esporre allora per quanto riguarda le partite IVA cerco di essere veloce allora in effetti il problema era particolarmente pregnante diciamo nel senso che erano tantissimi casi di veri e propri lavoratori diciamo quasi di tipo subordinato a cui veniva fatta aprire partita IVA e veniva fatta fare fattura come se fossero dei normali prestatori d'opera professionisti per cui da questo punto di vista la riforma fornir ha cercato di mettere un limite però a mio avviso con una norma talmente far ragionosa adesso che sarà anche difficile applicazione ci saranno numerose problematiche appunto dal punto di vista giudice lavoristico considerate questo esiste una presunzione di legge adesso con la riforma e cioè con la presenza di due di questi tre presupposti e adesso ve li illustrerò il prestatore di lavoro con partita IVA viene considerato automaticamente collaboratore coordinato e continuativo quali sono questi tre presupposti basta che ce ne siano due che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco di un anno per due anni solari consecutivi per cui bisogna fare tutti i calcoli oppure che il corrispettivo mediante derivante a tale collaborazione costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di un anno per due anni consecutivi e infine che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente sono sufficienti due di questi presupposti l'esistenza di questi presupposti per far sì che il giudice oppure l'ispettore del lavoro riconosca che quella non è una vera prestazione professionale con partita IVA ma è una collaborazione coordinata e continuativa tali presunzioni vengono ecco qui non questa presunzione non opera in questi due casi la prima riguarda questi due A e B quando ci siano presenti questi due requisiti o che l'attività sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi o capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività immaginate com'è discrezionale questo tipo di presupposto chi va a vedere se sono di grado elevato quanto elevate sono le competenze teoriche oppure quanto rilevanti siano le esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività e poi la seconda requisito è che l'attività sia svolta da un soggetto titolare e qui c'è proprio una contaminazione da quella che è il diritto fiscale tributario perché si fa riferimento al soggetto titolare di un reddito anno da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile eccetera eccetera che nel 2012 abbiamo già fatto il calcolo è pari ad euro 18.662,50 mi spiego meglio chiunque abbia questi due requisiti insieme non viene considerato automaticamente un collaboratore coordinato continuativo ma si riconosce la sua essenza quale diciamo così prestatore di attività ovvero nel caso di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali l'onere della prova contro questa presunzione legale spetta al committente cioè colui che viene chiamato in giudizio per essere dichiarato datore di lavoro dovrebbe essere lui a dare la prova circa l'insussistenza degli elementi di continuità e di coordinamento e questo se vogliamo da un lato può essere tutelante per il lavoratore ma nei casi in cui le partite siano vere poi ne parleremo e su questo punto mi rilancio con noi però ci stiamo riflettendo perché come gruppo lavoro non abbiamo certezze assolute che questo tipo di impostazione mentale tu sei una partita IVA la stai subendo sia vero perché ci sono i professionisti e questa legge non li tutela non considera la scelta di persone mature adulte vere professioniste che decidono specialmente in alcuni settori che ti richiedono questo tipo di attività che è breve nel tempo o intensa come apporto intellettuale di ritrovarsi nel corpus legislativo su questo oggettivamente riteniamo ci sia un problema bisogna che le partite IVA siano riconosciute le vere partite IVA e le altre sanzionate finisco brevemente perché questa problematica della presunzione legale pone in essere questo il principio della doppia presunzione di tre passaggi pensate anche come è articolata ma anche un po' artificiosa in pratica la prestazione d'opera che dovesse essere e corrispondere alle caratteristiche indicate nella legge viene considerata una collaborazione coordinata e continuativa sappiamo che se le collaborazioni coordinate e continuative poi ce lo dirà appunto il collega Stefano sono riconoscibili soltanto a pochi casi se no vengono considerate automaticamente i contatti a progetto ed in assenza di progetto noi vediamo riconoscimento della falsa partita IVA come un rapporto di lavoro subordinato a questo punto invece di fare tutti questi passaggi conveniva semplicemente farlo subito immediatamente grazie grazie manuela la parola Stefano buonasera a tutti prego di rimanere nei tempi perché siamo già oltre grazie parliamo delle dimissioni esatto allora spero di essere chiaro almeno la metà di quella che è stata la mia collega manuela dunque i temi che io tratterò sono quelli che vedete a video in particolare vabbè sono sempre quattro ambiti in cui la riforma Fornero ha portato delle modifiche c'è da dire però subito fare una piccola premessa più velocemente possibile due di questi casi l'intervento non è stato così negativo vedremo poi quali sono vi parlerò quindi delle dimissioni in bianco e di come la riforma ha tentato con una nuova procedura di contrastare questo fenomeno purtroppo dilagante vi parlerò di come sono cambiate le regole del contratto a progetto e del contratto a termine infine vi parlerò di un aspetto che mi diciamo con cui mi scontro quasi quotidianamente che è l'ultimo che vedete nella slide il regime della responsabilità solidale negli appalti poi vi spiegherò cos'è dunque partendo dalla dimissione la questione delle dimissioni in bianco era stata stimata circa sei mesi fa dall'ufficio le dimissioni in bianco sono quando uno viene assunto con la lettera di dimissioni già firmata su un foglio a parte lo spiegherà Stefano ma volevo dire solo questa cosa l'ufficio studi della CGL aveva stimato che questo fenomeno interessava circa due milioni di lavoratori una cifra enorme se ci pensiamo vi racconto questa cosa che è successa a me una mattina sentivo Radio 24 e c'era Giuliano Cazzola che voi avrete sentito nominare ex CGLino ora PDLino responsabile della commissione lavoro vicepresidente al senato che parlava di questa cosa io ho avuto la fortuna che Giannino mi ha fatto intervenire e ho detto ma insomma c'è questo problema Cazzola mi trattò malissimo alla radio io non potei replicare però poi Giuliano Cazzola questa cosa l'ha votata ecco il livello dei nostri parlamentari italiani cioè fanno i gradassi quando possono fare però quando si è trattato di alzare il ditino su una roba che lui non condivideva Giuliano Cazzola la votata tutto qua dunque grazie Giovanni venendo al merito appunto di queste dimissioni in bianco che cosa sono? beh molti di voi lo sapranno già però è bene ricordarlo sono un fenomeno per cui quando io vengo chiamato dal mio datore di lavoro a firmare il contratto di lavoro questo mi fa firmare anche le mie dimissioni contemporaneamente oppure un foglio in bianco gli basterà poi apporre la data a questo foglio per far cessare il rapporto sottraendosi quindi a tutta la disciplina dei licenziamenti ovviamente le dimissioni in quel caso saranno condizione necessaria perché il datore di lavoro firmi il contratto e quindi saranno delle dimissioni estorte è purtroppo come diceva Giovanni una prassi molto diffusa e ovviamente illegittima prima della riforma della riforma Fornero tutte le non ce n'erano l'unica cosa che si poteva fare era tentare di dimostrare in giudizio tramite testimoni che quelle dimissioni erano state fatte sostanzialmente firmare non dico con la forza ma quasi il problema che ovviamente era una prova diabolica perché dubito che un datore di lavoro avrebbe fatto firmare delle dimissioni davanti a dei testimoni quindi il lavoratore lavorava con la spada di Damocle sulla testa di queste dimissioni pronte ad essere diciamo attivate dal datore di lavoro non appena questo avesse fatto un passo falso la riforma in questo senso ha a mio parere innovato in maniera interessante quanto meno perché ha previsto una procedura molto particolare per accertare la volontà del lavoratore di dimettersi vediamo in cosa consiste dunque allora prendiamo il caso di un lavoratore che semplicemente voglia effettivamente dimettersi il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la sua volontà ovviamente a mezz'ora comandata sempre meglio a questo punto il datore di lavoro una volta recepita la volontà del lavoratore di dimettersi deve invitarlo a convalidare queste dimissioni lo dovrà fare davanti alle sedi che sono prescritte dalla norma cioè la direzione provinciale del lavoro o le sedi sindacali a questo punto se il lavoratore vuole effettivamente dimettersi si presenterà e convaliderà le sue dimissioni oppure non si presenterà proprio diversamente se si rientrerà nel caso delle dimissioni in bianco potrà sempre revocarle in questo modo quindi se gli saranno state storte quelle dimissioni lui con questa procedura potrà annullare diciamo quell'atto illegittimo che invece prima non aveva nessuna tutela quindi ricapitolando in conclusione se il mio datore di lavoro non mi invita a convalidare le dimissioni oppure una volta che mi ha invitato io le revoco entro sette giorni mi raccomando dal ricevimento dell'invito a convalidarle io ho il diritto di tornare a lavorare quindi sulla carta un commento finale questa normativa onestamente sembra efficace bisognerà poi ovviamente siamo in Italia quindi verificare se fatta la legge non si trova l'inganno insomma cedo la parola a Livio no brevissimissimo perché chiaramente ormai siete diventati tutti degli esperti a guardare i miei graficini vedete che anche in questo caso cioè i contratti parasubordinati lui ne tratterà una sola fatti specie perché i parasubordinati sono N.000 gli occasionali le collaborazioni varie abbiamo anche qui un effetto e l'effetto è che nel 2011 le cose a settembre sono andate molto meglio che nel 2012 forse perché qualcuno ci ha messo mano come? Dunque allora innanzitutto vabbè volevo dare una breve definizione di quello che è il contratto a progetto il contratto a progetto è un particolare tipo di rapporto di lavoro che è stato introdotto dal decreto legislativo 276 del 2003 ed è caratterizzato sostanzialmente da una particolare autonomia del lavoratore lavoratore che si chiamerà collaboratore il quale non è inserito o non dovrebbe esserlo secondo quello che è lo schema della norma nell'organico aziendale non è sottoposto al potere decisionale disciplinare e direttivo del datore di lavoro in teoria non dovrebbe neanche seguire un orario di lavoro potrebbe non avere una postazione dentro l'azienda è un lavoratore parasubordinato tendenzialmente autonomo perché appunto ha il suo unico obiettivo la sua unica obbligazione è quella di collaborare per il raggiungimento di un progetto nella normativa precedente si faceva riferimento non solo al progetto ma anche a un programma cioè programma aziendale intesa come programma di produzione grazie a dio questa questo riferimento che non era mai stato molto chiaro è stato dalla riforma eliminato comunque si distingue sostanzialmente da un lavoratore subordinato perché il lavoratore subordinato invece è soggetto al potere disciplinare gerarchico del datore di lavoro quindi le caratteristiche fondamentali di questo contratto prima della riforma erano l'autonomia come detto l'identificazione di un programma o di un progetto che doveva essere indicato nel contratto la limitazione nel tempo ovviamente non poteva essere a tempo indeterminato il collaboratore al progetto maturava contributi in maniera diversa rispetto a un lavoratore subordinato e inferiore a un lavoratore subordinato quindi vuol dire che il datore di lavoro pagava meno contributi e il costo del lavoro di un lavoratore al progetto era notevolmente inferiore inoltre vi era la libera possibilità di recesso da parte del datore di lavoro quindi sostanzialmente era la precarizzazione all'ennesima potenza con la riforma beh comunque una piccola premessa il contratto a progetto si è sempre prestato a un uso distorto ha sempre regolato rapporti di lavoro in realtà subordinati i datori di lavoro lo hanno usato esattamente come solo fine di ridurre i costi del lavoro cioè inquadravano come collaboratori a progetti lavoratori che in realtà erano tali e quali ai lavoratori subordinati che probabilmente seguivano un orario di lavoro addirittura magari arrivavano nella prassi ci capita di vedere lavoratori che devono addirittura arrivare a programmare le ferie cosa che un lavoratore autonomo non dovrebbe fare eppure vengono inquadrati invece che come subordinati come lavoratori a progetto la riforma in questo contesto ha migliorato la normativa a mio parere ha infatti eliminato il possibile riferimento ad un programma che era nella diciamo nella nella prassi dei tribunali come dicevo non si è mai capito effettivamente a che cosa si riferisse questo programma se un progetto è più facile da capire ad esempio un lancio di un prodotto piuttosto che una manifestazione sportiva organizzata da un centro sportivo un programma non è mai stato ben chiaro neanche ai giudici in che cosa consistesse la riforma ha inoltre precisato che l'attività del collaboratore oltre ad essere riferita a un progetto specifico deve anche avere un risultato finale un risultato finale che deve essere inserito nel contratto ove non sia inserito nel contratto questa sarà un elemento che farà propendere per l'illegittimità di quel contratto e per la sussistenza di un rapporto di lavoro in realtà subordinato inoltre la riforma ha vietato l'uso di tale contratto per mansioni ripetitive perché nelle mansioni ripetitive si annida la subordinazione inoltre ha vincolato la retribuzione cosa molto importante la retribuzione del collaboratore al progetto dalla riforma in poi dovrà essere vincolata a quella prevista dai contratti collettivi nazionali cosa che prima non era cioè prima la retribuzione del collaboratore al progetto era libera invece adesso è stato scritto nero su bianco che la retribuzione del collaboratore deve essere o direttamente regolata dal contratto collettivo o se non lo è dovrà essere pari alla retribuzione spettante a un lavoratore subordinato che svolga mansioni simili è una sorta insomma di reddito minimo per il lavoratore a progetto da ultimo cosa molto importante ha vincolato la riforma la possibilità di recesso del committente cioè dove prima vi era la precarizzazione massima ad oggi il committente potrà recedere solo in presenza di una una sorta di giusta causa diciamo e quindi non avrà più la libera ricevedibilità e quindi diciamo la precarietà all'interno del contratto sarà diminuita c'è da dire però che questa riforma è vero che ha portato questi miglioramenti ha inasprito diciamo i limiti dell'utilizzo della possibilità di utilizzo di questo contratto a progetto però di fatto non ha apportato grandi novità perché si è limitata a mettere nero su bianco gli orientamenti che si erano già consolidate nelle aule di tribunale in ogni caso è innegabile che abbia migliorato la posizione dei lavoratori vedremo poi se questo anche in questo caso sarà sufficiente per diciamo contrastare l'abuso che del contratto a progetto si è sempre fatto fino all'altro ieri probabilmente visto che a questo punto le ovviamente questa è una previsione un'opinione mia personale però visto che i limiti saranno così stringenti ci saranno così pericoli per il datore di lavoro ad applicare un contratto a progetto è possibile che tutti quelli che prima erano a progetti diventeranno probabilmente lavoro nero cedo ancora la parola un attimo all'allivio sarò molto veloce su questo anche perché l'ultimo colpo sui contratti che mi spetta vi ricordo quasi un'ora fa a questo punto io vi parlavo del 45% dei nuovi contratti stipulati nel trimestre che ha appena finito il tempo determinato solo per capirci a parte il volume il tempo determinato ha una cosa è determinato nel tempo scusate il bisticcio di parole cioè finisce quindi è cruciale capire quando finisce moltissimo era generato come la signora giustamente aveva notato dei contratti di un giorno che erano a tempo determinato e però reiterati sulla stessa persona quindi una stessa persona in un mese lavorando in un ristorante poteva avere anche 15 20 avviamenti ma lavorava solo 15 20 giorni in quel mese torniamo indietro con un altro piccolo passaggio vi avevo accennato che la riforma pensa che il contratto tipico sia quello a tempo indeterminato il determinato quindi dovrebbe essere all'altro opposto secondo quella visione attenzione visto che la durata è cruciale ma la legge non fa il mercato il mercato vive autonomamente e i legislatori non hanno ancora capito si divertono molto con le norme come ben sapete allora le imprese e l'abbiamo accennato da noi sono tutte molto piccole il tempo indeterminato quindi lo usano come noccioline non hanno nessun limite né problema dopo interverrà lui e vi randellerà sulla questione io vi sottolineo solo che essendo piccole il tempo indeterminato anche per la vita stessa di un'impresa noi pensiamo che un'impresa sia un monolite che dura per sempre no può anche essere molto breve possono aprire e chiudere le imprese nel volgere di uno o due anni quindi quello che conta non è tanto la forma contrattuale ma è dove voi andate a lavorare con un tempo determinato che vi dura tre anni la vostra probabilità questo parlo per la provincia di Milano che conosco e studio di rimanere su quel posto di lavoro è maggiore dopo tre anni se voi avete un contratto a tempo indeterminato triennale in una grande azienda per esempio di un lavoratore che ha un tempo indeterminato ma in una cooperativa che perde l'appalto e vi lascia a casa la vita media attenzione sono pronto a dimostrarlo dati alla mano di un tempo indeterminato in provincia di Milano secondo voi quant'è forza forza numeri quanto lo considerate già in anni benissimo quanti tre c'è che offre di più no non è giusto lei ha letto no c'è qualcuno qui che ha barato no no mi ha mi ha già scoperto diciotto mesi bene diciotto mesi la durata media di un contratto a tempo indeterminato parlo per la provincia di Milano è minore di un contratto a tempo determinato triennale però fatto in un'azienda che ha una vita aziendale più lunga ovviamente sono andati a complicarci le cose come dunque beh hai già praticamente detto metà delle no no non ho citato no no scherzavo dunque vabbè una breve premessa appunto il contratto a termine lo saprete tutti è tale quale è un contratto di lavoro subordinato Stefano scusami dieci minuti si vai avanti ho dieci minuti ok allora tenterò di essere velocissimo dunque vabbè è un contratto tale quale è un contratto di lavoro subordinato solo che è soggetto ad una scadenza quindi scaduto il termine non c'è bisogno né di licenziamento né di dimissioni il contratto si risolve prima della riforma è un contratto comunque questa cosa va detta legislativamente è comunque un'eccezione visto che la forma comune dei contratti è quella a tempo indeterminato mi stai smettendo no ti sto confermando però legislativamente è stabilito che la forma comune è quella dei contratti a tempo indeterminato che poi il legislatore sia schizofrenico questo è evidente è una mia opinione ovviamente comunque prima della riforma vi erano quindi dei limiti dei limiti all'utilizzo di questo contratto a termine perché se tu uscivi dai limiti il contratto veniva automaticamente o meglio il lavoratore poteva richiedere a un giudice che riconoscesse la natura a tempo indeterminato del rapporto quali erano questi limiti uno su tutti il contratto a tempo determinato doveva essere motivato da reali ragioni temporanee cioè io potevo assumere a termine solo se avevo una motivazione a termine per esempio dovevo sostituire una lavoratrice madre in maternità con diritto alla conservazione del posto oppure ho un picco di produzione assumo una persona a termine ho un lancio di un prodotto che so che durerà 6-7 mesi assumo una persona a termine e quella motivazione io dovevo inserirla nel contratto se non la inserivo o se nella pratica poi in realtà nella prassi quella motivazione non esisteva perché non c'era la lavoratrice madre per esempio il lavoratore poteva chiedere la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato questo perché appunto il paradigma era quello del contratto a tempo indeterminato dopo la riforma la modifica più sostanziale è quella che trovate sottolineata e cioè questo obbligo di motivazione non esiste più per il primo contratto che può durare fino a un anno quindi il lavoratore che è soggetto appunto che stipuli un primo contratto a tempo determinato se prima poteva valutare o meno se effettivamente c'erano le motivazioni a termine per cui lui era stato assunto a tempo determinato adesso non lo potrà più fare ma la cosa peggiore secondo me è che questo libera le mani dei datori di lavoro perché il datore di lavoro potrà assumere continuativamente ogni anno una persona diversa per la stessa posizione prima se avesse fatto una cosa del genere io sono il primo della fila vengo assunto per un anno a termine mi lasciano a casa il giorno dopo assumono un altro sempre per la stessa posizione io potevo fare causa e dire no quella mia assunzione a termine era sbagliata perché in realtà non c'era una ragione temporanea visto che poi hanno assunto un altro che fa le mie stesse mansioni da oggi con questa riforma il datore di lavoro potrà assumere continuativamente persone per la stessa mansione ad libitum tra virgolette ecco e peraltro questa cosa genera a mio parere anche il problema che o il problema il vantaggio per il datore di lavoro per cui non sarà soggetto agli scatti di anzianità se opererà in questo modo ovviamente perché ovviamente dove prima avrebbe avuto un lavoratore che aumentava la sua anzianità e quindi la sua retribuzione continuerà ad avere novellini che lavoreranno anno dopo anno ovviamente questa è una visione pessimistica però non non surreale insomma e quindi il lavoratore in questo contesto non può più contestare appunto la legittimità del suo contratto a termine per il primo anno le imprese assumeranno probabilmente sempre più spesso a termine per un anno prima di assumere stabilmente probabilmente sostituendo il patto di prova il patto di prova poteva durare al massimo correggetemi se sbaglio fino a sei mesi per legge per legge da oggi in poi io io datore di lavoro assumerò a termine per un anno piuttosto che assumere in prova e poi eventualmente cioè la mia prova sostanzialmente diventerà di un anno oltre al fatto che poi hanno allungato anche i termini con cui per cui il lavoratore può lavorare oltre la scadenza dell'effettivo termine prima erano da 21 a 31 giorni in virtù del fatto che il contratto fosse più o meno lungo di sei mesi adesso possono lavorare possono farla il datore di lavoro può far lavorare il lavoratore fino a 31 giorni o 51 giorni oltre la scadenza quindi tutto ciò a differenza di quanto era stato pubblicizzato comporta una totale precarizzazione un aumento della precarizzazione del lavoro appunto perché sarà favorita la diffusione di questo contratto come anche evidentemente i dati che ci ha fatto vedere Livio dimostrano e basti solo considerare che quello che prima era legittimo avrebbe portato un contratto alla trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato oggi sarà ritenuto legittimo e i datori di lavoro non rischieranno più questa questa sanzione diciamo una nota a margine la riforma ha cambiato anche i termini di impugnazione del contratto cioè se voi volete contestare il vostro contratto a termine fino al 31 dicembre avrete 60 giorni di tempo dalla scadenza del contratto dal primo gennaio in poi avrete 120 giorni dunque da ultimo vi parlo non vi parlo Stefano siamo veramente oltre va bene saltiamo questa parte grazie grazie mille Stefano passerei la parola a Giovanni che ci parlerà dell'aspetto forse più spinoso di tutta la questione cioè quello dei licenziamenti e annessi e connessi con le slide potete andare avanti fino alla parte grazie dunque la la legge 92 io la chiamo con i numeri non la identifico con i suoi presunti padri o madri quindi la legge Fornero per me non esiste la legge 92 è riuscita a sradicare quello che era una conquista degli anni 70 cioè l'articolo 18 famigerato perché da una parte si dice che era troppo rigido dall'altra parte si dice era un deterrente ora vedremo anche di fare una valutazione come dire critica rispetto a queste questioni ma l'articolo 18 voi ricorderete è stato uno dei terreni sui quali si sono accapigliati rigidità di ogni tipo sulla pelle poi sostanzialmente di chi lavora ma questo governo tra virgolette tecnico con una maggioranza politica però è riuscito in questa operazione io faccio una primissima riflessione voi tutti sapete che l'articolo 1 della nostra costituzione dice che la repubblica è fondata sul lavoro che cosa aveva fatto l'articolo 18 l'articolo 18 diceva che se un lavoratore era stato licenziato senza un motivo valido gli restituiva il lavoro cioè l'articolo 18 non faceva altro che ripristinare quello che era stato tolto quindi non dava altro che spazio all'articolo 1 della costituzione ma in tutti questi ultimi mesi ci è arrivato il bombardamento della l'Europa vuole che l'articolo 18 venga modificato ora se noi andiamo a vedere gli studi che ha fatto l'Ocse tra i paesi europei che hanno una legislazione rigida dal punto di vista del rapporto di lavoro l'Italia sta al sesto posto quindi dire e non lo dico io lo dice Carlo dell'Arringa che è stato per lungo tempo ministro del lavoro in pector e voi ricorderete che prima di fare la fornero si era parlato anche di Carlo dell'Arringa professore alla cattolica di tutto il lavoro come possibile ministro del lavoro bene quindi sicuramente persona non tacciabile di appartenenze ma appunto l'Europa voleva si è detto e con questa logica è stata fatta passare una modifica che toglie un'applicazione pratica di un principio costituzionale questo principio costituzionale prevedeva appunto che di fronte a un licenziamento illegittimo quindi interveniva a valle non a monte non impediva l'articolo 18 non impediva il licenziamento come qualcuno ha detto impediva che avessero efficacia i licenziamenti non validi illegittimi come si dice tecnicamente i licenziamenti sbagliati non avevano tutela cioè avevano questa tutela forte ridare il lavoro quindi non era affatto vero che l'articolo 18 impediva di licenziare impediva di fare quei licenziamenti che non si potevano fare questo principio è resistito dal 1970 adesso lo abbiamo sostituito con delle ipotesi direi quattro ipotesi l'articolo 18 infatti è stato modificato nel senso che se c'è un licenziamento discriminatorio che cos'è un licenziamento discriminatorio un licenziamento discriminatorio è un licenziamento per cui il datore di lavoro ti licenzia perché tu appartieni a un partito politico a un sindacato a una razza hai una tendenza sessuale una appartenenza a una religione per questo licenziamento le cose sono rimaste sostanzialmente immutate ovvero quando un datore di lavoro fa un licenziamento il discriminatorio oppure lo fa verbalmente in America si dice you have to get a sack cioè devi prenderti la sacca e andare a casa ecco in Italia ti licenzio ti metto alla porta non si può fare quindi per i licenziamenti discriminatori per i licenziamenti fatti verbalmente ti licenzio opera ancora la restituzione del lavoro cioè la reintegrazione sul posto del lavoro vuol dire ti restituisce la legge ti restituisce il lavoro però devo dirvi che in 27 anni che mi occupo di casi di lavoro i licenziamenti discriminatori che ce l'abbiano scritto in faccia sono francamente nessuno non credo che nessun datore di lavoro ti licenzia perché ti dice ah tu sei aderente del 5 stelle ti lascio a casa per questo non lo farà mai cercherà lo farà in maniera come dire subito la sottosotterranea quindi mantenere ferma questa tutela forte per i licenziamenti discriminatori di fatto sostanzialmente vuol dire lasciarla per una nicchia per una cosa di poco conto perché appunto si fanno in altro modo i licenziamenti discriminatori poi c'è una tutela come dire si dice si applica ancora l'articolo 18 per quei licenziamenti cosiddetti disciplinari che cos'è un licenziamento disciplinare il licenziamento disciplinare è un licenziamento in cui il lavoratore accusa il lavoratore di avere commesso una mancanza cioè non si è comportato secondo le regole del contratto in questo caso l'articolo 18 è stato modificato nel senso che spetta viene restituito il lavoro ma se tu sei stato a casa due anni perché il processo è durato tanto il lavoro il risarcimento del tuo danno non potrà mai superare 12 mesi e da questi 12 mesi il giudice potrà detrarre tutto il tempo di lavoro che tu hai lavorato da un'altra parte il che mi sembra assolutamente giusto ma può anche toglierti quello che tu avresti potuto trovare cioè questi signori nel 2012 quando la disoccupazione cresce di 2 milioni pensano bene che uno può avere trovato un posto di lavoro e non se l'è coltivato per lucrare sul risarcimento del danno cioè una cosa che dal punto di vista pratico è una follia dal punto di vista logico però quindi verrà tolto dal risarcimento anche quel lavoro che tu potevi trovarti e non ti sei trovato poi abbiamo i licenziamenti per superamento del comporto o per per inidoneità al lavoro cioè cosa vuol dire comporto voi sapete che uno nella vita si può ammalare ai noi ogni contratto collettivo ha un tempo massimo in cui il rapporto di lavoro viene assicurato mantenuto si chiama appunto comporto tolleranza vuol dire il datore di lavoro deve tollerare che il lavoratore non lavori ma se il comporto non viene superato c'è questo termine che è un termine variabile varia da contratto a contratto e il datore di lavoro ti licenzia potrai ottenere la restituzione del lavoro sempre con un risarcimento non superiore a 12 mensilità poi abbiamo l'ultima ipotesi nell'ambito dei licenziamenti come dire non economici di cui parliamo poi che è il licenziamento fatto con un vizio di forma per i licenziamenti disciplinari il datore di lavoro vi ho detto prima non può dire vattene deve fare un procedimento di accusa difesa deve dire tu sei stato responsabile di questa cosa dimmi quali sono le tue giustificazioni il lavoratore dà le sue giustificazioni e poi il datore di lavoro può licenziare oppure il datore di lavoro non fa una lettera di licenziamento con le motivazioni in questo caso manca la specificazione del perché ti ho lasciato a casa è un vizio formale la legge dice che se il datore di lavoro dimostra che esiste la ragione sottostante cioè il fatto per cui ti avrebbe licenziato lo può dimostrare poi ti spetta un'indenità risarcitoria da 6 a 12 mensilità ora io mi trovo a riflettere sul fatto che su i motivi che possono avere portato un licenziamento ci si possa pure arzigogolare siamo un paese non dimentichiamolo che non brilla per la cultura della legalità non è che nel nostro paese ci sia una diffusa cultura del rispetto delle regole e quindi proprio perché sulla motivazione si può come dire intervenire a posteriore io posso costruirmi una serie di argomenti che potrebbero poi dimostrare ciò che in realtà non è quindi su questa vicenda io credo che si innesti la come dire la maggiore pericolosità di tutta questa riforma perché lascia spazio alla creazione di come dire di poter costruire qualche motivo che non c'è e veniamo ora invece ai licenziamenti cosiddetti di natura economica è una formula che è stata recentemente introdotta nel nostro linguaggio in realtà si tratterebbe dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo cioè quando un datore di lavoro dimostra che la prestazione cioè quella posizione lavorativa occupata dal lavoratore tizio è superfluo oppure non è più conveniente per l'azienda in questo caso se riesce a dimostrare questa ipotesi questo motivo il datore di lavoro pagherà se non riesce a dimostrare scusate pagherà una indennità che varia da 12 a 24 mensilità della retribuzione per questo tipo di licenziamento e solo per questo tipo di licenziamento è stata introdotta una procedura di conciliazione che non sto qui a spiegarvi perché diventa un tecnicismo inutile perché tanto comunque vi affiderete immagino quando uno perde il posto di lavoro si deve affidare a delle strutture organizzate qualsiasi esse siano comunque sappiate che per un licenziamento che riguarda un motivo economico non si può fare così ma si deve fare prima una procedura di conciliazione dovete essere chiamati all'ufficio del lavoro e firmare eventualmente un accordo oppure rifiutarlo tutto questo bailame di ipotesi è quello che d'ora in avanti ci aspetta ci aspetta e credo che sia un problema non solo per chi lavora ma anche per chi deve farli i licenziamenti anche per il datore di lavoro mi pare che questa legge sia assolutamente piena di insidie la vera ragione per cui questa legge queste modifiche avrebbero avuto un senso è che purtroppo il processo in italia dura tantissimo voi dovete sapere che a milano negli anni in cui la giustizia del lavoro funzionava fino al 2004 milano aveva il record europeo di sollecitudine nella definizione dei processi di lavoro cioè si faceva il primo grado e il secondo grado in un periodo massimo di due anni non ce l'aveva forse nemmeno in Germania funzionava così se vi dico i tempi che c'erano a Roma c'è da mettersi le mani nei capelli perché a Roma un processo di primo grado cioè una causa del primo grado ci metteva mediamente cinque anni quindi voleva dire che se il datore di lavoro perdeva la causa doveva pagare cinque anni di stipendio a Napoli ci metteva otto anni mediamente così come a Palermo mediamente otto anni è chiaro che questo tipo di distorsione non andava bene per nessuno non andava bene per il lavoratore che doveva aspettare cinque otto anni parlo del primo grado per non parlare poi del secondo della Cassazione che doveva aspettare cinque otto anni per andare davanti al giudice e sapere ma forse mi ha licenziato bene mi ha licenziato male che succede del mio futuro bastava quindi dare sì effettivamente retta all'Europa che ci dice che siamo il peggior paese in Europa dal punto di vista dell'efficienza della giustizia civile bastava semplicemente imporre dei tempi fissi rigorosi perentori come diciamo noi quindi che non si potevano derogare perché il processo venisse fatto e tutto questo bailame che ripeto non porta secondo me vantaggio a nessuno si sarebbe evitato invece siamo di fronte a questa scelta che è una scelta politica secondo me ma questa è un'opinione assolutamente del tutto personale di come dire colpire un sistema che forse tutto sommato aveva delle come dire ragioni di essere un sistema avanzato di civiltà umana sembra una una cosa che non sta in cielo né in terra ma forse dovremmo riprendere cominciare a riflettere sui livelli di civiltà che ci siamo dati noi eravamo secondo me avanti due parole sì due parole velocissime sull'aspi perché sull'aspi si parla di numeri non si parla di questioni che riguardano come dire le persone l'aspi innanzitutto che cos'è l'aspi è quella forma di tutela che noi fino ad oggi abbiamo conosciuto come o indennità di disoccupazione o indennità di mobilità che dal primo gennaio 2016 direte voi ma perché ne parliamo ora vi spiego perché dal primo gennaio 2016 entrerà a regime e ridurrà di gran lunga i tempi in cui lo Stato si fa carico dei periodi di disoccupazione involontaria cioè vuol dire che se io perdo il lavoro non perché ho scelto di perderlo quindi mi sono dimesso per esempio oppure ho firmato un verbalino di conciliazione dove ho preso i soldini sotto banco magari li ho presi tutti i veri ma insomma non ho manifestato una mia volontà di perdere il lavoro interviene lo Stato che è un cosiddetto sistema di welfare states che è comune in tutta Europa in tutti i paesi occidentali ecco questo sistema è radicalmente ridotto dal primo gennaio 2016 ci saranno semplicemente due periodi di godimento di questi cosiddetti ammortizzatori sociali mentre oggi voi sapete che sono invece differiti a seconda dell'età in questi tre anni che mancano il primo gennaio 2013 2016 quindi a partire dal primo gennaio 2013 questi ammortizzatori sociali vengono gradualmente ridotti fino ad arrivare al livello di 12 e 24 mesi a seconda del limite di età che sarà 55 anni viene ridotto gradualmente con dei passaggi che ogni anno tolgono dei periodi di assicurazione di questo reddito di sopravvivenza questo tipo di intervento riguarderà avrà delle estensioni perché si estenderà anche agli apprendisti lo diceva prima Manuela ma avrà una caratteristica essenziale sarà collegata al fatto che il lavoratore possa vantare un periodo di contributi nel biennio precedente pari almeno a un anno cioè dovrà avere nei due anni precedenti il periodo in cui è stato licenziato almeno un anno di contributi però non beccherà nulla ci sono dei vantaggi che vengono portati dei piccoli contentini viene ritolta per esempio la imposizione fiscale del 5,84% che viene oggi applicata ma vi rendete conto che rispetto al fatto di avere per esempio per la mobilità oggi oltre i 50 anni 36 mesi e riceverne semplicemente 24-55 diventa ben diverso una cosa e qui concludo una cosa positiva invece che potrebbe essere foriera di idee per creare nuova occupazione è il fatto che l'indennità cioè questa ASPI può essere chiesta in pagamento anticipato tutta e subito mettiamo che mi spettino 24 mesi li posso chiedere tutti e subito per aprire un'attività imprenditoriale oppure per associarmi in una cooperativa di produzione e lavoro il tema della cooperazione di produzione e lavoro mi sta particolarmente a cuore io penso che abbiamo degli esempi di cooperazione e lavoro assolutamente negativi ma abbiamo anche delle grandi esperienze di produzione e lavoro che hanno creato lavoro buono lavoro sano lavoro positivo per intere regioni e non ho bisogno di citarvi quali forse uno dei modi per uscire da questa crisi economica durissima che mette a repentaglio il futuro di tutti quanti può essere quello di ripensare al modello della cooperazione come un modello vincente e un modello che possa creare nuova occupazione grazie Giovanni ok gli interventi sono finiti adesso vorremmo aprire a voi esatto alle domande insomma anche interventi voglio dire dimmi tutto sì sì c'è il microfono adesso passiamo con il microfono anche interventi vostre opinioni sul tema ecco non sono domande dubbi no no aspetta aspetta come scusa le slide allora credo che le pubblicheremo sui nostri canali soli tipo i works o comunque sul nazionale credo che non ci siano problemi passo col microfono chi vuole chi vuole intervenire vi prego interventi brevi grazie no devi farlo col microfono perché abbiamo lo streaming per la registrazione va bene così va bene allora io mi chiamo Marco Signori mi occupo professionalmente di relazioni industriali di relazioni del lavoro non sono non faccio paghe e contributi non mi occupo di mercato del lavoro però seguo professionalmente la contrattualistica individuale collettiva e quindi mi occupo di assunzioni di riduzione del personale e di gestione dei rapporti di lavoro sia individuali che collettivi all'interno delle imprese inoltre mi sono occupato prevalentemente in passato anche di social accountability cioè la norma per la responsabilità sociale nelle imprese denominata S8000 di responsabilità sociale dell'impresa e di cooperazione questo per definire in termini di presentazione qual è il profilo del piccolo contributo che intendo sottoporre qui questa sera per punti perché le cose da dire sarebbero tante ma sugli aspetti va bene sugli aspetti specifici che sono stati toccati contratto a progetto vorrei sottolineare il fatto che la contribuzione che è ridotta attualmente rispetto alla contribuzione del rapporto di lavoro standard oltretutto è divisa due terzi un terzo tra datore e prestatore e questo riguarda anche l'INAIL e non soltanto la contribuzione previdenziale poi gli indici di subordinazione del rapporto di lavoro in realtà già consentivano in passato di impugnare il contratto progetto non genuino come contratto di lavoro subordinato di fatto gli indici di subordinazione sono l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa l'osservazione di un orario di lavoro e la soggezione alla potestà gerarchica al datore di lavoro solo che tutto questo non avveniva semplicemente perché a chi era in cerca di un rapporto di lavoro si ventilava sempre la possibilità di passare dalla condizione di precario alla condizione di stabile questo con gli stagi con i contratti a progetto con i contratti a termine quindi questo non si faceva in realtà ora che è stato stabilito questo vincolo con la retribuzione contrattuale il trucco per aggirare questa norma c'è già perché nel contratto a progetto per definizione non c'è orario di lavoro e siccome la norma rinovellata parla di riferimento alla retribuzione contrattuale per quel tipo di prestazione ma rapportata all'orario di lavoro che viene svolto siccome il prestatore a progetto non ha orario di lavoro perché il progetto deve essere finalizzato a un risultato e non meramente cioè un allocatio operarum come si dice non è un allocatio operis quindi io non vendo il mio tempo ma vendo il risultato del mio lavoro viene facile a dire che per fare quel lavoro ci vuole un tempo ridotto e quindi io parametrerò la retribuzione contrattuale al tempo parziale basta va bene grazie mille qualcuno vuole intervenire perdonerete se se vi dico scusi come direbbe Lubrano ma la domanda sorge spontanea a che serve tutto questo discorso questi bei discorsi perché vede sembra di essere in una sembra di essere post elezioni vinte il ministro del lavoro e del movimento 5 stelle e quindi andremo a fare un contratto di lavoro migliore di quelli che sono stati fino adesso invece le elezioni bisogna prima vincerle e invece come dire le vinceremo saremo ancora bravi ma vinceremo meno che un mese fa perché una parte di nostri elettori diremmo così vanno a Renzi perché Renzi fa la televisione e invece come dire Grillo non ci va però non possiamo fare voglio dire Grillo fa quello che vuole va bene questo è però voglio dire che senso ha discutere di queste cose lei ha fatto l'esempio del barista che lo chiama tre ore alla settimana e allora che cosa vogliamo fare gli vogliamo far pagare lo stipendio quello semplicemente non lo chiama in Italia quello che manca non è il lavoro sono gli stipendi e gli stipendi i soldi in Italia ci sono solamente che il dipendente il dirigente 30 anni fa rispetto all'ultimo all'ultimo uscere prendeva 100 mila lire in più oggi il dirigente percepisce dieci volte lo stipendio se non ti piace il discorso allora cantatela suonatela come ti pare quindi non so che cosa c'entra questo discorso scusi abbia pazienza cosa cazzo parliamo di lavoro quando ancora dobbiamo vincere le elezioni o no ma dico scusi perché mi togli il microfono ma chi l'ha detto se qui uno vale uno lei vale quanto valgo io stia al suo posto quindi lei vuole parlare per tutta la serata sì signora io voglio parlare dieci minuti dieci minuti voglio parlare ma scusa ma finisco subito no no ma non è una questione io voglio anche rispondere perché è così un'interlocuzione abbia pazienza io finisco subito ti stai rispondendo da solo nel senso che stai spiegando perché siamo qui per dare le informazioni esattamente come stai facendo ma a chi servono scusi a tutti noi perché dobbiamo ragionare sulle cose queste informazioni qua cosa c'entra io le sto dicendo che i soldi in Italia ci sono solamente che che l'onorevole deputato per esempio percepisce dieci volte lo stipendio e allora Grillo fa una cosa buona a dire che gli toglie il nomignolo di onorevole quale onorevole quale onore c'è a vivere con ventimila euro al mese l'onore sta in quello che riesce a mantenere la sua famiglia con mille euro al mese e infatti siamo tutti qui d'accordo e i nostri che sono nelle regioni non prendono i 12.500 euro noi non promettiamo niente a nessuno le facciamo le cose e quindi ti ringrazio dell'intervento c'è qualcun altro che vuole parlare di altro o della riforma lavora grazie allora io vorrei invece andare un po' in modo costruttivo ok perché misurare che le cose vanno male e misurare che ad esempio è stata fatta una riforma del lavoro dal mio punto di vista ha puri scopi promozionali per il governo nei confronti di altri tavoli fuori dall'Italia dove si doveva portare io faccio quello che voglio in Italia è abbastanza semplice è del tutto evidente che sono state riforme politiche così come è del tutto evidente secondo me che come sta andando il mercato del lavoro in Italia è in funzione di posizioni ideologiche e politiche non certo per migliorarlo però il punto è cosa possiamo fare allora porto un piccolo aneddoto ok premessa noi siamo stiamo entrando in una recessione enorme come dicono gli economisti più accorti di fronte alla quale quella del 29 non sarà nulla non solo Europa del Sud ma Stati Uniti eccetera nel giro di 3 o 4 anni bene nel 29 29 e 30 un piccolo un insieme di paesi in Austria hanno pensato che potevano fare una qualcosa di diverso ok e in pieno 29 e in piena Germania che soffriva ancora di più di altri paesi il 29 perché veniva dalla prima guerra mondiale eccetera ok là il lavoro aumentò del 30 35% cosa fecero in quei paesi fecero molto banalmente una finanza locale una moneta locale gestita in un certo modo quella moneta lì andò a pagare il lavoro in un certo modo e nel giro di un anno il lavoro aumentò del 20% non sto parlando di bruscolini perfetto quando noi iniziamo a considerare i temi del lavoro come strettamente connessi ai temi della finanza ma riusciamo a pensarli in modo creativo e non solo a posteriori accorgersi che Marchionne non fa neanche una macchina e si capiva tre anni fa se era un attimo intelligente che stava facendo un'operazione finanziaria appunto se noi non capiamo che i temi della finanza sono strettamente connessi ai temi del lavoro e se non agiamo sulla finanza non ne usciamo allora io ho delle proposte molto precise se noi facessimo finanza locale i miei modelli i miei numeri che peraltro confronto con economisti potrebbero produrre un 10% di più di ore lavorate in un distretto come quello Lombardo nel giro di un anno un anno e mezzo adesso non sto a darvi più di tanto però è importante che anche in riunioni come queste si dica che ci sono delle vie di uscita ci sono delle politiche proattive per dare qualche soluzione ecco no scusa un attimo ma interessante quello che dici ma volevo capire il contenuto che cosa intendi per finanza locale nella realtà nostra nella realtà italiana intendo la possibilità di nei meandri delle leggi di fare una moneta locale e una moneta locale però con un modello particolare che viene usata per pagare parte del lavoro defiscalizzata e viene data come finanziamento sostanzialmente a costo zero agli imprenditori e gli imprenditori che stanno specialmente i nostri imprenditori piccoli medi imprenditori che stanno vengono fatti morire per crisi di liquidità nel momento in cui hanno accesso a una liquidità che a loro oltretutto costa zero ma non in funzione di quanto fattureranno e di quanto debito fanno e quindi di quanto lavoro futuro ma in funzione di quanto lavoro devono pagare e quindi di lavoro fatto noi creiamo una moneta locale con un modello completamente diverso che aumenta la base monetaria in base al lavoro fatto e non al lavoro futuro e agevoliamo gli imprenditori ad accedere a questa liquidità gratuita in base al numero di ore che loro aumentano perché devono pagarle e è chiaro che gli imprenditori sono interessati a aumentare il numero di ore anche perché parte di quelle ore le pagano con una moneta che a loro non costa nulla adesso non vi sto ad entrare nel dettaglio ma è tutto un meccanismo che si attiva posso rispondere brevemente ti voglio dire questo che grazie per il tuo intervento nel movimento 5 stelle c'è molta attenzione a questo problema non soltanto relativamente a una certa opposizione a quella che è la finanza e anche un'attenzione a quella che è l'economia locale ma anche secondo me un'attenzione a quelle che sono le transition town e altri casi di introduzione di moneta locale proprio per gli scopi che dicevi tu cioè un'attenzione a quella che è l'economia reale sul territorio poi è chiaro che sono tutti progetti che devono essere sviluppati attraverso poi il rapporto di tutti perché però questo spunto c'è ed è coltivato secondo me io ho bisogno del vostro contributo perché la parte di normativa del lavoro è ancora la mia trapposta un po' nel dettaglio comunque ho a che fare con i consiglieri regionali siciliani ho a che fare con i consiglieri di Parma che sto sviluppando delle idee delle idee di Monti chi è che ha il mio sono parte del mio di tutto certo ci siamo persi il sì no certo sì io volevo solo fare una riflessione forse impopolare in questo luogo però in un certo senso si aggancia anche un po' quello che stava dicendo la persona prima la valuta parallela no è una cosa che può rivitalizzare l'economia io quello che ho ascoltato in questa serata e forse mi sbaglio ma ho visto proprio una scissione tra quelli che sono i datori di lavoro e i lavoratori mentre io come attivista del Movimento 5 Stelle mi piacerebbe vedere la cittadinanza italiana come diciamo non divisa in compartimenti stani per categorie datori di lavoro e lavoratori ma mi piacerebbe vederla da un punto di vista che tutti vengano tutelati come ha detto lui la piccola imprenditoria sta morendo perché non ha soldi quindi è logico che se si trova in una condizione di non avere soldi trova degli escamotage in situazioni di contratto come questo per cercare di sopravvivere io credo che per riuscire a risolvere una cosa del genere bisogna prima cercare di aiutare gli imprenditori a sopravvivere perché come diceva il signore prima nella nostra sì Livio come diceva Livio prima cioè in Italia abbiamo la caratteristica di avere l'80% degli imprenditori cioè delle imprese sono piccole imprese cioè con numero di impiegati inferiore a 9 allora che potere economico può avere un'impresa di 9 dipendenti cioè se non gli si dà la possibilità di funzionare cioè se gli si desse la possibilità di funzionare in modo economico io sono sicura che la maggior parte perché poi ci sono sempre quelli che vogliono approfittarsi ne sono sicura ma la maggior parte degli imprenditori farebbero le cose giuste anche per i lavoratori se non le fanno è perché non ne hanno la possibilità cioè io conosco penso che tutti conosciamo dei piccoli imprenditori il negoziante e così sono tutti alla canna del gas come si fa cioè è chiaro poi io voglio certo che voglio difendere anche i lavoratori però quelli che poi diciamo chiudono la loro impresa diventano dei disoccupati che poi si trovano dall'altra parte della barrecata non si risolve che è il problema dobbiamo fare circolare il microfono no no è lì in fondo non prima in te c'è lui guarda in fondo e poi ti diamo il microfono no ok si buonasera sono Greco Domenico mi riallacciamo un po' al discorso fatto dal signore prima sulla moneta locale in realtà si la moneta locale potrebbe essere una soluzione però io credo che sappiamo tutti che la crisi è stata generata dalla partita dall'America è una crisi finanziaria generata da grandi lobby bancarie che hanno speculato un po' sulla vita di tutti noi io invece come proposta molto semplicemente faccio questa per finanziare le aziende piccole come sono in Italia credo che la soluzione migliore sarebbe ritornare un po' come era l'antico cioè riformulare risistemare il sistema bancario in particolare dare una letta separazione tra la banca che fa finanza e la banca che fa il commercio quindi io cittadino in questo momento metto i miei soldi in banca e non so assolutamente la banca cosa ne fa anzi lo so cosa ne fa li specula li specula e se ci guadagna i soldi si riprende la banca se ci perde ci perdiamo tutti quanti la banca non rischia niente praticamente in questo momento allora vorrei che venisse sistemato il sistema bancario per cui io cittadino vado in una banca commerciale e so che i miei soldi vanno a finanziare le imprese vado in una banca finanziaria sapendo che li rischio io ne posso magari guadagnare di più ma li posso anche perdere ma non metto in difficoltà le imprese quindi il lavoro per me è strettamente collegato a una a una revisione del sistema bancario poi il dato vedo che siete stati chiarissimi perché non ci sono domande praticamente sono solo interventi no volevo fare un paio di domande da casa perché mi sembrano interessanti sì poi dopo lo passo subito dove scappi Alfredo da casa chiede comunque nel contatto al progetto persistono la mancanza di tutele per malattie e gravidanza alessandro chiede peggiorano le cose per i tempi determinati giusto giusto su questo posso essere molto sintetico vai un altro paio intanto potete rispondere a quella di prima sì dunque allora se non sbaglio le tutele relative a maternità e malattia se non erro sono quelle che erano precedenti cioè se non ricordo male il contratto rimane ma non vi è una corrisponsione di indennità come invece previsto per il lavoro subordinato sì chiaro per il tempo è certo per la durata del contratto ovviamente ok grazie allora c'era lui e lui chi 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 per primo e questo non lo sappiamo vabbè salve sono Valenti Giovanni ho una domanda velocissima io parlo per il contratto progetto sono un giovane che lavora il contratto progetto ormai da anni ma mi ha colpito una cosa rispondevo anche al signore è stato molto istruttivo per me questa sera infatti ho preso appunti no prima il contratto progetto era con un progetto un programma giusto? adesso è per un risultato finale è un po' come dare una responsabilità al lavoratore che se il risultato finale non viene raggiunto perché se io lavoravo per un progetto io parlo da insegnante a progetto il concetto è insegnare per un anno a uno studente un altro è il risultato che lo studente passi l'esame perché io ho un contratto dove se non passa l'esame prendo il 40% dello stipendio totale come contratto progetto quindi il risultato finale pesa su di me forse non è un progetto legittimo è una grossa azienda è una grossa azienda grossa beh immaginiamo quale posso dire il nome? no no sappiamo già il nome non lo so se capire è universitaria diciamo così ok quindi il concetto di passare al risultato finale da progetto prima era passato come un'idea buona e migliorativa a me non sembra rimane comunque il riferimento al progetto nel senso che comunque la legittimità si valuta in virtù dell'esistenza del progetto poi se c'è anche un risultato finale il fatto che tu lo debba raggiungere o meno se è un contratto a progetto legittimo può anche starci che la tua retribuzione sia subordinata al raggiungimento di quel risultato ma non di altri ma non di altri e soprattutto è una tutela in più per quelle situazioni in cui in realtà sì ma legalmente ci sta come contratto a progetto perché è un progetto ma non ci sta lo stesso probabilmente perché è l'attività il tuo progetto è una realtà così chiudiamo la consulenza il tuo progetto il tuo progetto è analogo all'attività all'oggetto sociale dell'impresa che ti è il core business dell'impresa che ti tra virgolette ti usa ma ti ha assunto e quindi in realtà non c'è nessun progetto è l'oggetto sociale l'oggetto sociale dell'impresa posso fare un'altra domanda velocissima era sul contratto accessorio che ho sentito che viene pagato con un ticket con voucher ma un voucher che corrisponde a una possibilità di acquistare allora praticamente dovrebbe essere scusate l'ignoranza no 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 anzi perché è una cosa abbastanza nuova sono praticamente blocchettini tipo dei blocchettini che si vendono nelle rivenditori autorizzati costano cioè sono non mi ricordo più neanche a blocchi di 20 o 50 e costano circa 10 euro di cui 7,50 andranno al lavoratore e il resto dovrebbe essere pagato appunto come contribuzione il datore di lavoro cosa fa? se li va a recuperare e poi lo compila e lo dà di volta in volta al lavoratore per le orane dove può spenderlo questo ticket? no poi il lavoratore va in posta porta i ticket e si in casa altre domande? chi è che c'era? buonasera sono Luigi Rovina innanzitutto volevo ringraziarvi perché finalmente un quadro finalmente un quadro compiuto di questa riforma che nessuno ci dice che cosa c'è dentro e quindi vi ringrazio perché avete fatto un lavoro veramente notevole dopo di che io sono lavoratore dipendente e avrei questa domanda perché non è vero che è solo politica io lavoro in una multinazionale grossa molto grossa e hanno usato la legge Fornero per licenziare due persone che ricollocare due persone su 6.000 non è un'azienda in crisi e mi hanno detto il sindacato che anche su questo piuttosto generico che nella legge Fornero è previsto che in ogni provincia ci sia la possibilità di licenziare all'interno di un anno per ogni trimestre 4 persone o 3-4 persone per ogni provincia ma allora io non so però arrivando la fonte dal sindacato per ogni provincia intesa come istituzione dello Stato in ogni realtà diciamo no 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 in ogni provincia nel senso che se l'azienda se l'azienda non c'è non c'è un limite temporale o annuale no ecco vedi il metro scusa dei licenziamenti collettivi allora non non esiste non esiste nessuna possibilità che ci sia una norma a qualsiasi livello provinciale regionale comunale aziendale che possa dire no 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 allora è possibile fare i licenziamenti collettivi ma devono essere almeno 5 nell'arco di 120 giorni che è cosa completamente diversa allora è questo è questo no ma attenzione deve riguardare un programma di ristrutturazione riorganizzazione dell'attività d'impresa oppure deve essere a fronte di un programma di cassa integrazione che non consenta di reimpiegare i sospesi in cassa ma non esiste un programma to cure anche perché attenzione ho capito adesso ho capito quella roba se sono due se sono due non è collettivo devono essere 5 per essere collettivo quindi tutto il resto non esiste no volevo solo lanciare non puoi fare un'interlocuzione così perché c'è lei che ha chiesto la parola scusate ma c'è praticamente l'ultima domanda perché sono le 11 e abbiamo concluso la sala la signora l'ha in fondo ci sono 3 o 4 domande proviamo se non ci cacciano se non ci cacciano chi è qui davanti il signore con la maglia gialla io volevo capire se queste leggi queste leggi sono solo per l'apparato privato mentre l'apparato pubblico e marcio e borbonico del nostro Stato ha ancora degli ottimi contratti degli anni 60 al tempo del boom no non è vero per favore parlo da parte in causa sono un dipendente pubblico e quindi isso la bandiera c'è gente che si fa il mazzo dalla mattina alla sera la riforma noi l'abbiamo già subita si chiama Brunetta e la stanno già applicando lasciando in maniera abbastanza anche discrezionale persone in mezzo tra virgolette a una strada perché la mobilità significa che in un momento così col blocco dei turnover il lavoratore che è in un ente pubblico che viene posto per pianta organica in esubero deve trovare il lavoro entro due anni entro presso un altro ente pubblico cosa che non può succedere e in ogni caso ricordati che l'attacco che fanno al dipendente pubblico e ve lo dico come parte in causa quindi mi sembra giusto dichiararmi lo fanno sulla pelle dei poveracci quando mai hai visto un dirigente una persona che ti mette i lavoratori nelle condizioni di non lavorare in maniera efficiente di fare scelte scellerate in quella condizione mai attento non prestare il fianco alla vulgata però mi pare che non voleva dire voleva dire ha fatto un ragionamento più generale io invece volevo capire l'opportunità di fare una battaglia sull'articolo 18 che riguarda le aziende con più di 15 dipendenti quando lei ha detto prima che per esempio in Lombardia la maggior parte delle imprese ha meno di 9 e non solo ma di quei 15 dipendenti di quelle imprese con più di 15 dipendenti quante hanno dovuto reintegrare cioè il numero globale dei reintegri negli ultimi 5 anni 10 anni quanti sono state mi piacerebbe capirlo perché io non ho capito cioè non ho capito il senso di questa battaglia se poi e poi concludo l'avvocato ha detto la legislazione sociale italiana dagli anni 70 è all'avanguardia ed è però meno rigida se ho capito bene la sesta giudicata in quanto a rigidità no in Europa chi sono gli altri prima perché se sono tutti non europei allora possiamo capire perché l'Europa ci ha chiesto questo grazie grazie rispondi Giovanni nel frattempo perché altrimenti su questa questione dell'applicabilità dell'articolo 18 allora l'articolo 18 è stato come dire uno strumento di tutela forte in un periodo in cui la crescita economica di questo paese è stata imperiosa ne abbiamo avuto bisogno secondo me le ragioni che giustificavano questo bisogno non sono venute meno per una questione molto semplice che l'ho detta prima ossia il livello di illegalità diffusa che permea questo paese non è paragonabile con nessun altro paese al mondo facciamo un esempio pratico la flessibilità la flessibilità è stata introdotta in Italia nel 1996 vi ricordate la legge treo tutti a festeggiare con l'appoggio anche dell'integralista Bertinotti che la votò l'entrata in vigore di questa legge che introduceva la flessibilità la flessibilità in Europa è in vigore da anni il problema è che solamente in Italia siamo riusciti a trasformare la flessibilità in precarietà il punto è questo paese è maturo è pronto nelle sue istituzioni nelle sue organizzazioni a ricevere questi programmi di ammodernamento tra virgolette sui quali poi possiamo discutere in termini ideali ma siamo pronti noi a liberalizzare oppure siamo un paese che ha bisogno ancora dell'articolo 18 questa è la domanda forse che ci dovremmo porre io la risposta ce l'ho per quanto mi riguarda io penso che non siamo pronti a poterlo fare perché abbiamo trasformato e la riprova lo è tutta quella flessibilità in esempi di porcherie inaudite che abbiamo fatto alle spalle dei nostri figli lui l'ultima l'ultima domanda perché siamo veramente oltre il tempo massimo mi alzo Claudio Peschiera Borromeo di vista 5 stelle lavoratore metalmeccanico niente io ho visto che più che altro tutte queste normative qui comunque portano a delle diatribe ad apertura di vertenze tra lavoratori e imprese tra lavoratori e imprese per cui aumenta la confettualità tra i lavoratori tra i due litiganti si dice sempre che c'è il terzo che gode ok per cui bisognerebbe anche un po' io parlo sempre anche perché ci sono dentro io capire se c'è l'azienda che ha realmente una necessità andare incontro all'azienda ma se queste aziende fanno invece delle speculazioni si approfittano di queste normative qui è chiaro che non va bene qualcuno dice bisogna sempre pensare da buon padre di famiglia su tutte le cose per cui questa roba qua io per chiudere poi faccio una battuta così però visto che ci sono qua degli avvocati ultimamente hanno consigliato di iscriversi per fare l'avvocato perché aumenta da matti il lavoro in quel senso e non mancherà mai giusto così per chiudere in simpatia con una battuta di spirito grazie mille volevo dire ancora una cosa scusate sono stato colpito da quello che diceva lei la signora cioè lei poneva il problema del superamento del conflitto di classe sostanzialmente detto in parole molto terra a terra è vero è vero questo paese è stato permeato dal conflitto di classe per 40 anni è giunto il momento davvero di riporlo e su questo siamo perfettamente d'accordo dobbiamo trovare però lo strumento lo strumento non può essere quello attuale io ho detto prima e lo dico titolo assolutamente personale che il sistema l'idea non parlo del come è stata realizzata parlo dell'idea l'idea della cooperazione cioè di un rapporto in cui il lavoratore diventa compartecipe delle sorti dell'impresa in Italia ha avuto grande fortuna siamo il paese in Europa che ha il livello di cooperazione più ampio di tutti gli altri stati ora io dico che dovremmo metterci a ragionare su questo modello cioè di trovare delle soluzioni che ci possano consentire di superare da un lato questo conflitto di classe che esiste perché finché voglio dire il 70% ha la stragrande maggioranza delle risorse e l'altro 30% si deve accontentare delle briciole il conflitto di classe nasce per fatto spontaneo cioè per necessità oggettiva dobbiamo cercare di creare le condizioni per una ridistribuzione delle risorse prima cosa e non basta più secondo me ci vuole un modello che consenta la partecipazione perché non basta semplicemente dire ti do di più denaro ma devo anche poter contare poter dire la mia su questo modello ci dovremmo interrogare per vedere se ci consente di superare questa crisi perché se no credo che non ne usciremo più ok io direi che la serata è conclusa spero spero che la cosa sia stata interessante e lo scopo era informare come per rispondere a chi ha detto perché abbiamo fatto questa cosa le domande scusate per le domande alle quali non abbiamo potuto rispondere io spero che questo sia uno dei tanti incontri che faremo su questo tema perché il tema lavoro ripeto secondo me è qualcosa di fondamentale e vi invito chi non chi non è iscritto se vi interessa il tema a iscrivermi a iscrivervi al google group del gdl lavoro in modo da partecipare a tutte le nostre discussioni perché tutto questo lavoro è nato proprio all'interno del gruppo e quindi potrete partecipare attivamente chi ha delle proposte anche interessanti può farlo all'interno del gruppo e quindi ci vediamo al prossimo evento grazie a tutti grazie